Addirittura ho trovato un argento! E questi sono i più pericolosi questi Perché questi sono gente scarsa Che pur di non perdere rank quittano Questi sono i più pericolosi Un intero game, pam, buttato via il cesso Il letto possente, buono C'è giù per dare concentrazione in mischio Vabbè, sì, la sua squadra è un po' mediocre Insieme a far due tiri, va Insieme a romper culo Insieme a fargli calare un po' quella barretta Thomas, grazie per il follow Vabbè, ci sta Dragon Blast! Sì, siamo belli aggressivi qua Oddio, forse ci arriva... Ma Shona non c'ha mosse per difendere Stucca al volo, signori! Il re! Bucata proprio questa difesa Ma non c'ha fa manco con... Infatti Dai, però dai, i primi dieci minuti Già gli ho fatto il gol Questo deve quittare forza, cioè Madonna, lo switch di personaggi che schifo su sto gioco Madonna Ma la manina non stava su... Ah, ah Fallo... Cioè, dunque, ma come fa a farmi fallo se manco mi tocca? Cioè, capisci che ci sono dei problemi L'intero gioco è un problema Madonna, vabbè, faccio due tiri normali, 700 ho fatto No, che culo di merda! Sto sculato del cazzo! Vabbè, comunque non segnavo, però Ah, frate, ma se la manina sta... Vabbè, mi sta distruggendo Porca troia! Non mi può manco più scartare Sono impossibile da scartare io Vabbè, diretto possede così Che c'ho pure la probabilità di tiro portentoso aumentato con la tattica Ah no, quella era corni di toro L'abbè non aumenta niente, questa è un cazzo Però posso comunque grittare Eh, vabbè, questo ci va aggressivo Oh, Delsin! Buonasera Ah no, ma la mano non stava su lui, no Vabbè, quant'è che correggeranno Sti cazzo dei mani di merda Tutto quello che vuoi, capo Non ti preoccupare Un tiro me l'ha fatto Dopo un primo tempo Riuscito a farne uno di tiro Ma sì, per ride, frate C'ha uno! Se mi entra un tiro portentoso Inizia a tirare tutto il calendario Io ho visto la barra che per un istante era scomparsa Guarda Bello sto passaggio Nathan comunque Cioè Grazie Via sta palla de merda Anzi cerchiamo di far un tiro A volo, capo I rovesciata Mi piace, mi piace Aggressivo, capo Guarda che si mette davanti a Jack E non si può muovere davanti a Jack No, di uno! Ma di uno! Dai, 5 e 24 su 5 e 25 Ma che schifo Ma perlomeno falle entrare la palla Dai, ma devo fare un altro tiro Che palla Eh, il tizio è bello Quello si è fatto tutti i calcoli mentali Se me faccio una mano di luce Mi metta la tecnica di un po' Così riesco ad andare di sopra Anche a colore di svantaggio Sì, sì Bella, frate Non ho sbagliato A cliccare Devo fare questo Vedo che il tizio sta incazzato con la vita Ma c'hai uno Cioè, al massimo goldi Devo parare il culo Oddio, qua addirittura Devo fare il passaggio 5 Ma che è la lotta della chiesa 5 contro 1 È entrato a 4 Che schifo Io te lo faccio C'ho percentuale aumentate Sul tiro portentoso Eh, non per dire Ma Jack I suoi difensori Non ci arrivano mai E' come i miei Fanno schifo Vabbè, il tiro portentoso Però ci stava Mi stava laggando G non mi aveva premuto il tasto Stavo per tirare un bestemmione Che non avete idea Io già faccio fallo normale Figurati con un 25% in più Che succede Dimora anche il padre Dimora Se faccio un 3-0 Il tizio è veramente amen Io lo devo fare il 3-0 Niente Il difensore più forte del gioco Vittor Vittoria Mamma mia Mamma mia Quel pyron Come ti fa emozionare Ehm, basta Salto temporale col cazzo Infatti Vabbè, frate Ma c'è i personaggi Più forti del mondo Lui Impossibile da tankarli Proprio Donato Grazie per il follo Eh, vabbè È impossibile Trova la concatenazione Di Dio Qua Ma va con Axel Vira Con Gozanar Nel chill Ragazzi Nel chill No, 19 No, frate Questo è meglio Entra il tiro portendoso Mi prego la madonna Vado, frate Ogni tanto Che la barra scompare Ragazzi Ultracino Questa partita Stalliamo Stalliamo Mark, bravo Ti diti la palla No, frate Che è sto schifo Qua sotto 78% Ho perso Vabbè Però ho perso Un 78% Il tizio Domani si gioca Il super E' un 8% Qualcosa Attiva Un cazzo Ahahahah 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 Wow Il re Direi a super level Oh, frate Non ho beccato un quit Oddio A parte la prima partita 4 win the feel Forti Sono di un altro livello A sto gioco Il mondo Troppo facile Questo videogioco Ragazzi Mastrato Con tutte le bestemme tirate Ma l'abbiamo Mastrato Sì Grazie a tutti.